In vista della riapertura a settembre di Pesaro Studi con due corsi di laurea pronti ad iniziare, il Comune di Pesaro ha siglato oggi con Apo Hotel un nuovo protocollo. Un accordo che prevederà per tutti gli studenti che frequenteranno l'Università di Pesaro di godere di hotel e residence a prezzi calmerati. Abbiamo avviato un percorso e anche un aiuto, un'accoglienza ai ragazzi che verranno a studiare presso la nostra città. Come Comune non abbiamo solamente voluto dare le sedi per l'Università, ma è anche giusto ai ragazzi che vengono a studiare presso la nostra città di avere tutti i comfort e la possibilità. In questo momento mi sento anche di lanciare a ConfCommercio, Confesercente, CNA, la possibilità tramite i loro associati di far avere ai ragazzi che vengono a studiare presso la nostra città dei prezzi calmerati. Io ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, siamo molto soddisfatti come amministrazione perché non pensiamo solamente allo studio, ma anche a tutto quello che crea ai ragazzi che vengono da nostra città e che possano dire di essere stati bene a studiare presso la città di Pesaro. Un protocollo che comprende il periodo tra il 1 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023 e che mette a disposizione degli studenti universitari fino a 40 posti letto in camera doppia. 300 euro mensili a persona per l'appartamento in residence con camera doppia, mentre 380 al mese per camera doppia in alberghi 2 e 3 stelle.